Sono il capogruppo di Castiglian Dinello, a questo onore qua, facciamo l'undicesimo raduno degli Alpini in Langa, pur essendo un paese piccolo vi aspettiamo tutti numerosi, più siamo, più festa facciamo. Il tempo è bello, domani mattina c'è i gagliardetti, la solita, c'è la sfilata, ci sono i muli imbardati, poi a mezzogiorno abbiamo il pranzo allestito qua in piazza, sotto il tendone e possiamo ringraziare il comune che ci ha dato una mano, perché da noi il paese è piccolo, siamo in pochi. Come funziona la manifestazione? La manifestazione oggi pomeriggio alle tre e mezza si aprono i gazebo, noi diamo degli assaggi così privatamente a una ventina di paesi, poi stasera c'è il soldato Mulo va alla guerra, poi c'è la cantoria Lana Valle Belbo e domani c'è la sfilata, quello che hai già detto prima. io sono vice sindaco, porto in salute di tutta l'amministrazione, questa festa, questo undicesimo raduno di Alpini in Langa è stata fortemente voluta da tutta la nostra amministrazione, condivisa con tutti i vari gruppi che abbiamo, comune, associazioni culturali e varie associazioni, perché l'associazione degli Alpini sono un elemento di forte, di coesione e sempre utile sul territorio per tutte le manifestazioni. Buona festa a tutti gli Alpini e sono tutti invitati in questo nostro paese che è il paese del Muscatto. Das.